è natale non se ne è accorto nessuno tranne noi tifosi interisti mamma mia quanti regali questa 25esima giornata di serie A risultati cramorosi, risultati che ci fanno godere come maiali risultati che comunque ci spianano un po' la strada verso questo scudetto che però non è ancora fatto del tutto e sfotto a parte che sono anche giusti fondamentalmente perché questo è il bello del calcio per chi non lo sapesse ma credo che quest'intro lo abbia fatto tranquillamente intuire sono tifoso nero-azzurro stasera voglio parlare un po' con voi di questa lotta scudetto aggiornata della classifica insomma di alcune statistiche e chiedervi fondamentalmente il vostro pensiero su come stanno andando le cose su come potrebbero andare a finire perché a questo punto nulla è più prevedibile come tutti credevamo partirei da Inter salernitana 4-0 non l'ho commentata qui sul canale perché onestamente c'era poco e nulla da dire l'ho vista l'Inter è stata stradominante di vario imbarazzante con l'ultima in classifica se avesse affondato l'Inter per i 90 minuti poteva finire tranquillamente 7-8-0 e poi non ho visto invece la Juventus che ha pareggiato con il Verona 2-2 il Milan che ha perso poco fa 4-2 con il Monza e per quanto riguarda la Juventus ho recuperato le highlights ho ascoltato un po' di pareri a quanto pare una Juventus non brillante che poteva perderla così come vincerla la partita e il Milan che praticamente perde con 4 pere ma in una partita in cui succede di tutto va prima in svantaggio 2-0 ho letto un primo tempo horror di Ciao con rigore procurato insomma grande errore nell'altro gol del Monza poi la ribalta in 10 per l'espulsione di Jovic arriva subito sotto 3-2 e finisce 4-2 con il gol dell'ex immagino soltanto il nervoso loro e la goduria nostra a vedere tutto ciò e insomma una classifica che dice Inter prima a 63 ce l'ho accanto a me Juventus a 54 e Milano a 52 quindi attualmente l'Inter è a più 9 dalla Juventus e a più 11 dal Milan con una partita in meno addirittura che a questo punto potremmo anche pareggiare certo vingerla sarebbe un ulteriore schiaffo a questo campionato quasi a chiuderlo del tutto però insomma una partita con l'asterisco che possiamo preparare con tanta più tranquillità è un divario importantissimo un divario che sembra recuperabile considerando la qualità dell'Inter la forza dell'Inter la convinzione dei propri mezzi che ha l'Inter ma la palla è rotonda come si dice e quindi insomma io sono un tifoso che non esulta per un trofeo fin quando non lo ha effettivamente alzato non vi nascondo però che comincio a sentire l'odorino di questa seconda stella e insomma comincio a sentirmela più vicino comincio tra virgolette a trepidare non me lo aspettavo soprattutto per il calendario che interessava in particolar modo Inter e Juventus perché il Milan comunque qualche scontro diretto importante l'ha dovuto vincere mi aspettavo una Juventus molto più attaccata o addirittura anche probabilmente davanti invece si è sciolta come neve al sole due punti in quattro partite onestamente rullino indecente per quello che aveva fatto vedere finora io penso che in questo qualche responsabilità ce l'abbia anche Allegri è vero sì che la Juventus inizio campionato molte partite le ha vinte un po' in maniera fortunosa non convincente con degli episodi a favore agli ultimi minuti comunque credendoci e questo è indubbiamente un merito quindi ci poteva anche stare che qualche partita nel corso poi della stagione insomma va in maniera storta tuttavia aveva fatto la Juventus della solidità difensiva al suo punto di forza invece sta perdendo certezze in questo senso forse complice anche delle assenze degli infortuni nell'ultima partita quella di Bremer quindi una Juventus che senza coppe e con un calendario così agevole poteva fare tranquillamente di più mentre il Milan stasera aveva la grande occasione di diventare l'anti-Inter di andare comunque al secondo posto di tenere un pochino acceso con uno scontro diretto ancora da giocare il sogno Scudetto invece no continua a subire una valanga di gol da inizio stagione addirittura ha subito 31 gol 14 in più della Juve e 19 in più dell'Inter numeri difensivi con cui onestamente non vai da nessuna parte e Milan che quindi insomma si allontana anche lei ancora di più dal primo posto facendoci stare più tranquilli io onestamente fossi stato un tifoso milanista avrei voluto l'ingaggio di Buongiorno del Torino a 30-35 milioni che chiedevano a gennaio perché è un calciatore che poteva dare una mano considerando i problemi difensivi che hanno un calciatore che comunque ti ritrovava in casa anche in caso di cambio di allenatore si vocifera ad esempio l'arrivo di Conte sondaggi per Lopeteghi insomma indipendentemente da chi arriverà insomma Buongiorno è un bel difensore molto talentoso e promettente per quello che sta dimostrando al Torino e considerando anche gli infortuni insomma una stagione che non è mai derogollata quindi onestamente io la stagione del Milan poco l'ho compresa e la giudicherai finora veramente negativa hanno solo l'Europa League per sollevare diciamo l'andamento di tutte le competizioni che secondo me è da 5 non di più forse anche meno e invece appunto la Juventus che spero allora continui con questo periodo nonostante credevo che la sua solidità non la perdesse l'Inter deve fare l'Inter deve continuare a dimostrare ciò che ha fatto finora e portare a casa i prossimi impegni che sulla carta sono agevoli al di là di questo recupero con l'Atalanta abbiamo anche la possibilità addirittura di preparare il doppio confronto con l'Atletico con più tranquillità e serenità magari anche potendoci sprecare qualche energia in più quindi benissimo così per noi malissimo per tifosi bianconeri e milanisti fatemi sapere la vostra se per voi questo scudetto lo si può ancora riaprire o se ormai è andato io la mia ve l'ho detta e probabilmente sarà così fino a quando la matematica non dirà Inter campione d'Italia e attivate la campanella iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video sperando che saremo insomma più 12 più 15 più 17 più 18 più 21 fin quando non sarò qui a urlare come un malato ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti